Buongiorno a tutti gli amici del nostro canale. Oggi abbiamo una storia speciale da condividere con voi, una storia che porta con sé un messaggio potente di compassione e gentilezza. Ma prima di immergerci in questa avventura, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Se non lo avete ancora fatto, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche. La vostra iscrizione ci aiuta a sostenere il canale e a creare contenuti sempre più speciali per voi. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra storia, la parabola del buon samaritano. C'era una volta, in una remota regione delle montagne giapponesi, un giovane monaco zen di nome Ken. Ken viveva in un piccolo tempio situato in un fitto bosco, lontano dai rumori del mondo esterno. Era noto per la sua saggezza e la sua compassione, e i pellegrini da ogni parte del paese venivano a cercare i suoi insegnamenti. Un caldo giorno d'estate, mentre Ken meditava nel giardino del tempio, udì un lontano gemito provenire dal sentiero che conduceva al suo eremo. Si alzò in fretta e si affrettò a seguire il suono. Lungo il sentiero, trovò un samurai ferito e sanguinante. Il samurai era stato attaccato da briganti e gravemente ferito, e giaceva disteso a terra, incapace di muoversi. Ken si avvicinò con calma e si inginocchiò accanto al samurai. Con cura, pulì le ferite e iniziò a curarlo con le poche risorse mediche che aveva nel suo tempio. Mentre lo faceva, Ken notò che il samurai si chiamava Hiroshi. Hiroshi era noto in tutta la regione per la sua fermezza e la sua destrezza con la spada, ma ora giaceva vulnerabile e bisognoso di aiuto. Dopo ore di cure, Ken riuscì a stabilizzare le condizioni di Hiroshi. Quest'ultimo aprì gli occhi e si rese conto che il monaco Zen lo aveva salvato. Hiroshi era profondamente grato e chiese a Ken se avesse bisogno di qualcosa in cambio. Ken, con un sorriso gentile, rispose, non ho bisogno di nulla, Hiroshi. La compassione è il mio unico insegnamento e il mio unico desiderio. Ho fatto ciò che era giusto perché tu sei un essere umano in difficoltà. Hiroshi rimase colpito dalla saggezza e dalla gentilezza di Ken. Decise di rimanere al tempio per qualche tempo, per apprendere gli insegnamenti di Ken. Mentre imparava i principi del buddismo Zen, Hiroshi rifletteva sul suo passato da guerriero e sulla violenza che aveva inflitto a molti. Dopo mesi di apprendimento e riflessione, Hiroshi prese una decisione. Rinunciò alla sua vita da samurai e si unì al monastero di Ken come monaco. Decise di dedicare il resto della sua vita a diffondere la compassione e la pace, invece della violenza. Ken e Hiroshi divennero inseparabili amici e trascorsero molti anni insieme, condividendo la loro saggezza con i pellegrini che giungevano al tempio. La loro storia divenne leggendaria in tutta la regione, e molti cercarono ispirazione nella parabola del buon samaritano, in cui Hiroshi rappresentava il samurai ferito e Ken incarnava la compassione infinita del monaco Zen. Questa parabola insegnava a tutti che non importava quale fosse la nostra storia passata o il nostro status sociale, la compassione e la gentilezza potevano cambiare le vite e portare alla redenzione. E così, nella tranquillità delle montagne giapponesi, Ken e Hiroshi continuarono a diffondere l'amore e la compassione, dimostrando che anche un ex samurai poteva trovare la pace interiore e diventare un buon samaritano. Gli anni passarono, e il tempio di Ken divenne un luogo di rinascita spirituale per molte persone. Pellegrini da tutto il Giappone vi giungevano per cercare saggezza e conforto, e Ken e Hiroshi erano sempre pronti ad accoglierli con il loro sorriso gentile e i loro insegnamenti. Il tempio fioriva, ma Ken e Hiroshi non trascuravano mai il loro impegno a vivere con semplicità e compassione. Un giorno, un gruppo di samurai armati arrivò al tempio. Portavano con sé un mandato del signore locale, che richiedeva che Hiroshi tornasse alla sua vita da guerriero per combattere in una guerra imminente. Ken e Hiroshi li ascoltarono con rispetto, ma Hiroshi era determinato a non tornare alla violenza. Disse al gruppo di samurai, ho giurato di seguire la via della compassione e della pace, e non posso tornare alla vita di un samurai. Non parteciperò a questa guerra. I samurai erano furiosi e minacciarono di distruggere il tempio se Hiroshi non li avesse seguiti. Ken, con calma, si rivolse a loro e disse, amici, la violenza non è mai la soluzione. La compassione è la nostra guida. Possiamo risolvere questa situazione senza spargere sangue. I samurai, colpiti dalla saggezza di Ken e dalla determinazione di Hiroshi, si ritirarono per riflettere sulle parole del monaco Zen. Rimasero fuori dal tempio per alcuni giorni, durante i quali Ken offrì loro insegnamenti sulla via della pace e della non-violenza. Alla fine, i samurai decisero di abbandonare il loro mandato e di lasciare il tempio in pace. Tornarono alle loro vite con una nuova prospettiva, ispirati dalle parole e dall'esempio di Ken e Hiroshi. Questo evento confermò ancora una volta il potere della compassione nel cambiare le persone e nel risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. Ken e Hiroshi continuarono a vivere nel tempio, condividendo la loro saggezza con chiunque avesse bisogno. La loro parabola, la storia di un samurai ferito che aveva trovato la via della compassione grazie a un monaco Zen, si diffuse ancora di più e ispirò molte persone a cercare la pace interiore. La parabola del buon samaritano, rappresentata da Ken e Hiroshi, dimostrava che non importava quale fosse il nostro passato o il nostro ruolo nella società. La compassione poteva cambiare il corso delle nostre vite e diffondere la pace in un mondo spesso dominato dalla violenza. E così, nel cuore delle montagne giapponesi, Ken e Hiroshi continuarono a essere un faro di luce e speranza per chi cercava la via della gentilezza e dell'amore. Gli anni scorsero tranquilli per il tempio di Ken e Hiroshi. Ogni stagione portava con sé nuovi pellegrini desiderosi di conoscere la via della compassione e dell'illuminazione. Il tempio fioriva, ma la modestia e la semplicità rimanevano le virtù più preziose del monaco Zen e del suo amico, l'ex samurai Hiroshi. Un giorno, mentre Ken e Hiroshi passeggiavano nei dintorni del tempio, trovarono una giovane donna che piangeva accanto a un fiume. Il suo nome era Sakura, e raccontò loro la sua triste storia. Era stata abbandonata dalla sua famiglia e si era ritrovata sola e disperata. Era incinta e senza alcun sostentamento. Ken e Hiroshi la portarono al tempio e la accoglievano con gentilezza. Le fornirono un rifugio, cibo e conforto. Mentre passavano i giorni, Sakura divenne parte della comunità del tempio e imparò gli insegnamenti di Ken sulla compassione, la saggezza e la pace interiore. I mesi passarono, e Sakura diede alla luce una bellissima bambina. Il tempio, che era sempre stato un luogo di accoglienza, ora aveva un'atmosfera ancora più ricca di amore e gioia. La piccola bambina, a cui fu dato il nome Ana, divenne la gioia e la luce delle vite di tutti nel tempio. Hiroshi, che aveva imparato a essere un padre amorevole e paziente grazie a Ken e ai suoi insegnamenti, si prese cura di Sakura e Ana come una famiglia. La giovane donna aveva trovato una nuova casa e una nuova speranza, grazie all'ospitalità e alla compassione del tempio Zen. La storia di Sakura e Ana si diffuse rapidamente, e molte persone vennero al tempio per conoscere la giovane madre e sua figlia. La parabola del buon samaritano, incarnata da Ken, Hiroshi, Sakura e Ana, dimostrava ancora una volta che la compassione poteva trasformare le vite e portare la guarigione in situazioni disperate. Il tempio divenne un luogo di speranza e rinascita per molti, e l'insegnamento principale che Ken trasmetteva ai suoi discepoli era che la compassione non aveva limiti. Ogni persona che giungeva al tempio, indipendentemente dal suo passato, era accolta con amore e gentilezza. La storia di Ken, Hiroshi, Sakura e Ana continuò a ispirare le generazioni a venire. Nel cuore delle montagne giapponesi, il tempio Zen diventò un faro di luce e speranza, un luogo in cui ognuno poteva trovare il conforto, la saggezza e la pace attraverso la compassione. Carissimi amici, la parabola del buon samaritano, incarnata nella storia di Ken, Hiroshi, Sakura e Ana, ci offre una preziosa lezione sulla compassione, sulla gentilezza e sulla trasformazione delle vite. Ma come possiamo applicare questi insegnamenti nella nostra vita quotidiana? Innanzitutto, ricordiamo che la compassione non ha limiti. Possiamo estenderla a tutti coloro che incontriamo, indipendentemente dalla loro storia, dal loro passato o dal loro status sociale. Come il monaco Zen Ken, impariamo a rispondere alle sofferenze altrui con gentilezza e amore, e a offrire il nostro aiuto senza giudicare. Come Hiroshi, riconosciamo che c'è sempre la possibilità di cambiare e di abbracciare la via della pace e della non violenza. Possiamo lasciare alle spalle comportamenti o atteggiamenti negativi, e abbracciare una nuova visione basata sulla compassione e sulla gentilezza. Sakura e Ana ci insegnano che la compassione può portare guarigione e speranza nelle situazioni più disperate. Non dobbiamo mai dimenticare di tendere una mano a chi è nel bisogno, come il buon samaritano nella parabola, e offrire il nostro aiuto senza aspettarci nulla in cambio. Ogni giorno, nelle nostre vite, abbiamo l'opportunità di essere buoni samaritani, di diffondere gentilezza e compassione in un mondo spesso caotico. Possiamo farlo attraverso gesti di gentilezza, ascoltando gli altri con empatia, e offrendo aiuto a chi è nel bisogno. Questa parabola ci insegna che la compassione è una forza straordinaria che può cambiare le vite e portare alla rinascita spirituale. Applichiamo questi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e saremo in grado di diffondere amore, gentilezza e speranza ovunque andiamo. Ricordiamo che la parabola del buon samaritano ci dice che ognuno di noi ha il potere di essere un faro di luce e speranza per gli altri. Che possiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, e che la compassione è la chiave per trasformare le nostre vite e quelle degli altri. Vi incoraggio a riflettere su questi insegnamenti e a cercare modi per applicarli nella vostra vita quotidiana. Siate come Ken, Hiroshi, Sakura e Ana, e diffondete la compassione ovunque andiate. Insieme, possiamo creare un mondo migliore, un mondo in cui la gentilezza e l'amore sono alla base di tutto ciò che facciamo. E così, cari amici, giungiamo alla fine di questa straordinaria storia, che speriamo vi abbia toccato come ci ha toccato. La parabola del buon samaritano ci insegna che la gentilezza e la compassione possono veramente cambiare il mondo. E mentre concludiamo questa narrazione, vorremmo chiedervi un piccolo gesto di gentilezza. Per sostenere il nostro canale e permetterci di continuare a condividere storie significative come questa, vi chiediamo di iscrivervi, lasciare un like se vi è piaciuto il video, commentare con le vostre riflessioni e condividere questo video con i vostri amici e familiari. La vostra partecipazione ci aiuta a diffondere messaggi di compassione e gentilezza in tutto il mondo. Grazie per essere parte della nostra comunità, e ricordate sempre, siate come il buon samaritano, siate fonti di amore e ispirazione per gli altri. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione!